I giorni del conflitto e la generale serenità dei pellegrini che si trovano a Gerusalemme in questo periodo. Non vogliamo una tregua, vogliamo la pace, sicura e duratura, che solo una legge internazionale giusta potrà garantire. Ai nostri microfoni il vicario patriarcale Monsignor William Schomali. La testimonianza di Abuna Pablo e di una volontaria subito dopo il loro rientro dalla striscia e la toccante lettera che ci ha inviato George da quel martoriato Lembo di Terra, voci e speranze tra sofferenza e fede di chi ha vissuto i difficili giorni di Gaza.